Musica Ehi ragazzi bentornati a tutti con Poké Park 2 E in questa parte vi dirò sinceramente che non so cosa fare Non mi ricordo più cosa dobbiamo fare Ehi stai calmo eh Stai calmo Non so cosa fare quindi diamo un'occhiata a cosa ci dice il taccuino Redoni i tuoi amici della racciosa e apri la porta del post Ah si ok perfetto Però prima di andare voglio spendere queste 5000 bacche Scusa Quindi Boh Se riesco ad arrivare a A 5000 Farei un po' meglio vero Quindi tieni Si è un altro regalo Ho capito ma dammela le bacche Ah già Pensavo che mi dasse 2-3 bacche di ricompensa Cacchina Dai scala Sono di buono Sono di cattivo umore eh Eh Allora Un'altra cosa per guadagnare bacche È Prendere sta palla E Non ci crederete mai ma Se voi la tirate dentro la porta Aha Una bacca Fantastico Ok basta 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 Gingillarci Qua e là Andiamo ad aumentare la vita Si E andiamo ad aumentare la vita di Tepig Perché praticamente Sì useremo molto Tepig Snivy Snivy è quello che userò di più Poi vabbè ovviamente Pikachu comunque è quello che userò di meno Però per ora aumenta la vita di tutti Tanto sono 3, 2, boom 3 Sì Quindi perché Perché no E' sempre per Tepig 500 bacche Erano così tante? Non erano 300? C'è un ladro? Una ladra? E' femmina vero? Sì Sì perché parlavo con Crocodile Ok sì bla 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 La tonnergy ha raggiunto il livello 2 Sì ok lo so Facciamo Facciamo che aumentiamo la velocità Dove sei blitz? Aumenta la velocità di sto porcellino Sto porcedo 200 bacche Ma Oh ma che c'è? Aumentano i prezzi qua? Ui Oh c'è una palla in mezzo No Vai Tepig No è morto Morto prima Livello 1 Non l'avremmo già fatto? Boh Non mi ricordo più No 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 Non ho finito con te E' ancora lento E' ancora lento Tepig Dopo aumenterò 700 Dopo non aumenterò nient'altro No scherzo Dopo aumenterò Ho shavot E' Si basta Anche perchè per ora Non voglio fare quella roba Prima preferisco Preferisco farla alla fine Quella roba Se non sapete cos'è Lo scoprirete verso la fine Ok Aspetta che non ho finito Si Per chi però Shavot Così almeno quando siamo in acqua Va un po' più Un pochino più veloce Vero Dewot Te che ci stai a guardare Si ok Dewot ha consentito Quindi praticamente in questa parte Facciamo questo mini allenamento Dai ma sei morto subito? Ah no ok Tutto ok Perfetto Faremo questo mini allenamento E Poi cos'altro Andiamo ad aprire la porta Nel poster Non credo di fare amicizie O robe varie Si ok 750 No che l'ho fatto? Oh shavot vero? Ok Dai C'è ancora la palla in mezzo Dai oh shavot Non era secondo? Vabbè Poco importa E Dove ero rimasto? Si niente Faremo questo breve allenamento E poi Bah Andiamo ad aprire la porta del poster Ovviamente poi vi dividerò la parte Perché sono malvagio Vieni qua Snail che sei più veloce Allora Vediamo di No eh Vaso Ok Qui dietro E' apparso L'amico che cercavo No E' timido ragazzi E' timido ancora Non si vuole far vedere Allora Dove eravamo? Ah di là Faremo dopo il bagno eh Sei tranquillo Tranquilla Non so più dove sta andando Ragazzi Sta girando a casaccio Allora Qui di qua Ah si ok La La rimessa Le cacchi Andiamo al forte montano Che c'è Ah Wow Sapete cosa facciamo? Prendiamo la palla E gliela diamo ad helibord Ah ah Senza che la lanci stavolta Vero? Ho detto Vero? Eh Ti siamo intesi eh Qui cosa c'è? Non lo so Dammi un po' di bacche Grazie Dammi altre bacche Sono un bullo Quante bacche? Ya No Per una Ok Dopo che mi sono destreggiato Con il mio bullismo Sugli alberi Sono passati Sei minuti Di stronzate varie Quindi no Ehi Calmi eh Siamo un po' calmini Ehi Mannaggia Mannaggia Di dindaffarati Ups Mi ha voluto una palla Non cadere Radice amare Deve essere deliziose Se cado qua Non posso cadere Perfetto Dunque Cosa Possiamo prendere Qua cosa c'è? Non c'è Cosa Ok Sono caduto Perfetto Andiamo Andiamo Dove eravamo L'altra volta Ovvero qua Oh Eccola dove è caduta Quindi dovete riprendere Tepig Vediamo come è aumentata Non è aumentata Esatto Ok Per fortuna Possiamo saltare Però potevo anche andarci Con il Drifblim Mobile Con la Drifblim Mobile Come cacchio Faccio un po' prima Allora Prendiamo Snive Ovviamente Perché è più veloce Snive Lol Quanto è caruccio Caruccia Scusami Deliboard Dove sei? C'ho qui la tua palla di neve Sono pronta A lanciartela in faccia Ma Se adesso me la fan cadere Questi due Non ho pietà Sono pronta A fare a botte Con un Karate Che non me ne frega Vi combina A lasciarmi in pace Qui cosa c'è? Candele relax Perfetto Mi servono No Seriamente Ne servono dieci Perché più avanti Incontreremo un Pokémon Che vuole Ste candele Ok Dove sei Deliboard Eh Il mio Dove è Deliboard Guardala dove Te mi hai fatto fare il giro E io pensavo che eri sotto Te sei qua Ma io ti meno Non è facile decidere Eh no Su quale vita perdere? Nei nove Chissà se gradirà Sì Do gradisci questo Senti ti ho di darmela L'avevo smarita Mentre eri in giro a fare regali Sapessi quanto l'ho cercata? Do Perfetto Dacci un regalo Accetta questo piccolo pensierino In segno della mia riconoscenza Cos'è? Candele relax Fiocchi di neve Va bene Ok Qui Pietre salate Mmm Devono essere buone Questa chi è che la mangia? Scusa eh Non c'è nessuno Non c'è manchia Gentile Andami qua Ciapa tutto Vai Via Fuga C'è un beat Che Un po' arrabbiato Ma noi Lo so Lo ignoriamo totalmente Così si arrabbia ancora di più E andiamo Dove eravamo rimasti L'altra volta Candele relax Aha No Radice amare Mi è trollato Andiamo dove eravamo qua Ovvero Alla L'arena lotta Si chiama? Credo che si Boh Si ricorda più Dove sto andando? Ah là Ci sono due tesori qui in giro C'è due Due scrigni qua Per la collezione Pietre salate Perfetto E andiamo ad aprire la porta Dato che adesso abbiamo fatto amicizia con praticamente tutti Sono passati dieci minuti Quindi Boh E' un po' brutto tagliare così le parti Fare parti corte così Per aprire questa porta Bisogna intensamente la forza Voglio provare ad aprirla? Si Cavolo Vediamo chi siamo Beh si Venite tutti dai Dradigon Reperior addirittura Che non ci passa neanche sotto C'abbiamo un Crustle Un Vertic C'abbiamo addirittura un Boneslay Un Ferrosy Che faranno sicuramente Molto Abbiamo anche un Un Kobchu Ok perfetto Dai 3 2 1 30.000 Abbiamo fatto So che c'è un obiettivo da fare più avanti Lo scopriremo come si vedono gli obiettivi Che tipo dobbiamo fare 50.000 In questo 50.000 Nella prima 50.000 Nella seconda 50.000 In questo 50.000 Nell'altra È un casino Ok Noi entriamo Ciao Abbiamo anche Teppig